Riqualificare la stazione ferroviaria di Mestre è uno dei nodi più congestionati del nord-est che dovrebbe essere rilanciato ma invece rischia di subire una nuova speculazione edilizia. Lo chiedono ora le associazioni, ecco Istituto del Veneto e Urbanistica Democratica insieme al Movimento 5 Stelle. Lucia Cappelletti. Enormi volumetrie con funzioni alberghiere e commerciali che non riqualificano la stazione di Mestre, la più affollata del Veneto con circa 85.000 passeggeri che transitano ogni giorno ma anzi la congestionano ancora di più. È netto e senza appello il giudizio di numerose associazioni del territorio che hanno depositato le loro osservazioni alla proposta di accordo di programma tra il Comune di Venezia e la società Grandi Stazioni. Tra le criticità evidenziate la riduzione dello spazio pubblico e dei percorsi pedonali e ciclabili, la mancanza di aree verdi e di parcheggio adeguate, la non integrazione con il progetto di rilancio dell'area di Marghera. Il risultato è che se non si modifica il piano d'insieme e non si danno solo i volumi necessari per riqualificare diventa solo un'enorme operazione speculativa che aggrava e congestiona ancora di più la stazione e che non riesce neppure a collegare Mestre con Marghera. Un accordo di programma tutto a danno dei cittadini secondo il Movimento 5 Stelle che chiede due importanti modifiche. Questi due grattacieli incredibili che si ergono sopra la stazione. Noi chiediamo che venga cancellato il secondo completamente e che l'altro venga riportato alle misure che aveva prima. E poi addirittura c'è una riduzione delle aree che dovrebbero essere cedute per allargare il parco del Piraghetto. Da 5,5 ettari che erano previsti, ora forse ce ne daranno 2,5 ettari. e mezzo.